Timur Stephens. Ancora nessun confronto con Nicolai Giorodischi e Timur Stephens non ha ancora avuto modo di confrontarsi con Nicolai Giorodischi, che ieri si è reso protagonista di un altro imbarazzante teatrino con Avier Rolas, ma continua comunque a portare avanti la sua battaglia. E fa benissimo, visto che almeno finora le parole usate da Nicolai è più in generale il suo atteggiamento provocatorio nella scuola di amici di Maria De Filippi non è stato ripreso in alcun modo, ieri per fortuna è intervenuto Valentin Aleksandro, che ha cambiato atteggiamento e sarà entrato senz'altro nelle grazie del pubblico dopo un inizio non proprio idilliaco, e Nicolai è stato messo al suo posto. Amici 19. Timur su Instagram. Frecciatina a Nicolai. Il maestro sostenuto dai fan non sappiamo se l'ultimo post scritto da Timur su Instagram si è indirizzato ad oro di schiema non si può nicare che abbia tutta l'aria di una frecciatina al ballerino, no matter a educating, talented, rich or cool in balivior. Per questo è quanto si legge, I treat people, altami tritem sol, che tradotto significa non importa quanto educato, talentuoso, ricco o fi, tu creda di essere, è come tratti la gente che alla fine dice tutto. Pensiero motivazionale del giorno? Potrebbe essere, ma non venite a dirci che Timur non ha pensato anche solo un istante a quanto accaduto sabato. Amici di Maria De Filippi. Timur è la lezione a Federico Pietrucci. Le speranze del maestro e maestro tra l'altro ha molto di cui preoccuparsi perché due dei sguoi allievi, Tala Saravagnani e Federico Pietrucci, ancora non sono riusciti a ottenere la maglia verde e mancano quattro posti. Quanto Timur tenga a entrambi lo si vede non solo dal tempo che passa con loro, pensate alla lezione motivazionale di ieri a Federico, ma anche ai post che pubblica tra le sue storie Instagram. Recentemente ad esempio ha condiviso l'esibizione di Talisa e la storia di un gruppo su Francesco Bertoli in cui si scriveva a Federico un incoraggiante riuscirai a prenderti questa maglia. Non c'è dubbio insomma che Timur creda fortemente nei due ballerini e che sia speranzoso che possano avere accesso al seriale di Amici 19. Già l'anno scorso ha dovuto sopportare l'eliminazione di Miguel Chavez, che quest'anno non si è ripresentato, quindi dubitiamo che accetterà un verdetto simile per Federico e Talisa. News Amici 19 Nicolai Vorodischi è sempre più contestato, è polemica su Instagram Intanto il pubblico dimostra con sempre più evidenza di non sopportare Nicolai per il modo in cui si sta comportando all'interno della scuola. Il ricordo del modo in cui ha trattato Timur è ancora vivo, e il ballerino non fa niente per cercare di recuperare, anzi dopo l'attacco sconsiderato a Pierdi ieri la situazione è peggiorata, e potete vederlo voi stesso leggendo i commenti a questo post che evitiamo di riportare per toni purtroppo eccessivi usati da alcuni intenti.